Ma se fai su youtube, uh uh uh, perché non parla di me? Credo 6 livelli, quindi 30 stelle, ma non mi ricordo 30 stelle, GG Iniziamo ragazzi da questo perché Allora, io mi baso solo su questi quindi, uh, no Però questo va, non è troppissimo Non capisco cos'è Abbiamo sbloccato questa parte Io sbloccherei Per riscattare questa ricomparsa La riscattiamo prima di tutto E il ciccone che equipaggiamo Poi riscattiamo il batto Riscattiamo altri vvac Riscattiamo la copertura Ora andiamo a riscattare la copertura E' fermo, ok E' arrivando a 26 stelle Allora, cerco di bloccare Allora, 3, 6, 9, 12, 7, 17 più 9 Proprio ce li ho Ce li ho Ce li ho Allora Mi piace questa stessa Vabbè, per ora Andiamo a provare Allora, in 3 di ciccola La lavagna delle 2 stelle Ok 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 Devo fare questa missione Sto a 4 di 5, vabbè Allora Allora Non per questo Ah, ci sto qua Ah, ok Allora Allora Direi di prenderci tipo Le occhie azzurre Che non 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 le occhie azzurre Ok Poi ci prendiamo Bonus Adesso Aspettate Aspettate Qua per ora Io ho Questo E per te L'ho comprato solo Questi Ok Non lo so Se comprarmi tutto Il sapore Per sbloccare La skin Oppure Me li tengo Per Altro Perché potrei Sbloccare già la skin Non so Prendo tutta la prima pagina E' super assoluto Anche la prima pagina Aspettate Che figo raga Ma che figo raga Ma che figo raga Ragazzi Io continuo a fare sfide Per rivelare Per essere lì E niente Ci vediamo Ciao 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 Ciao